Se è vero che nella cela di Provenzano c'era un sacchetto di plastica, bisognerebbe sapere chi l'ha portato. Anche perché non ci può essere un sacchetto di plastica. Non ci può essere un sacchetto di plastica, visto che esiste ampia letteratura sul fatto che soffocarsi con un sacchetto di plastica è una delle cose più semplici per un detenuto. Ci sono purtroppo dei detenuti anche ai tempi di Tangentopoli che hanno fatto ricorso proprio a quello strumento per suicidarsi. L'altra cosa è che da quando Provenzano lasciò vagamente intendere che avrebbe potuto dire delle cose in alcuni colloqui con europarlamentari e magistrati di Palermo, improvvisamente a Provenzano sono cominciate a succedere delle strane cose, cadute continuative, questo forse tentativo di suicidio, peggioramenti improvvisi delle sue condizioni di salute. Se fosse un caso isolato uno direbbe vabbè non ci sta più con la testa e quindi chissà che cosa è successo. Ma dato che è una costante della nostra storia quella dei detenuti eccellenti che appena un attimo prima di dire qualcosa o anche soltanto quando ventilano l'ipotesi di dire qualcosa poi li trovano ammazzati da un caffè corretto con la stricnina o da pisciotta in avanti che vediamo strane morti in carcere per tappare la bocca a questi signori.